A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe Davittis, tendenza cari amici di Agronotizie per i prossimi 15 giorni. Italia inizialmente divisa in inizio di settimana con Italia divisa ancora in due al nord. Piogge rovesce anche temporale anche di forte intensità, mite e stabile al centro-sud. Ma poi lentamente dal 24 al 28 la perturbazione si avvicinerà all'Italia e a tratti le piogge potranno interessare anche al centro e al sud. Con temperature che ovviamente caleranno un po' dappertutto. Ma non illudiamoci, l'anticiclone tornerà di nuovo a riconquistare la nostra Italia per i primi di novembre. Quindi di nuovo tempo piuttosto stabile o comunque generalmente bello. Attenzione alle foschie e alle nebbie che torneranno appunto. Per il momento è tutto, non ho altro da aggiungere. Vi ricordo che dal pulsante sottostante potete visualizzare le previsioni di casa vostra. Arrivederci.